Ciao a tutti, io mi chiamo Anna e oggi vorrei mostrarvi qualcosa che potrebbe interessare a tutti voi musicisti specializzati nella tromba. Quello che avete appena visto era un estratto dell'edizione rivista nel 2019 del corso per tromba di Kurt Thompson. Se suonando ultimamente hai notato che le tue labbra o i tuoi muscoli facciali in generale non sono forti abbastanza per raggiungere il volume o il sound pulito che vorresti, davvero dovresti dare un'occhiata al nuovo corso di Kurt Thompson. Come avrete notato dall'estratto, tutto il corso è stato sottotitolato in italiano professionalmente, dalla prima alla sedicesima settimana, quindi non avrete alcun problema a capirne i contenuti. Quindi, se state cercando un modo di suonare meglio, rafforzando labbra e muscoli facciali, cliccate il link qua sotto per avere più informazioni riguardo a questo corso. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!